la piscina youtube ben trovati da marco liguori è scomparsa in italia la nota vip in questo video trattiamo una storia che abbiamo seguito anche a chi l'ha visto e prima di saperne di più prima di scoprire chi ha fatto perdere le sue tracce vi ricordo che a 500 like pubblicherò immediatamente un nuovo video i tanti fan sono in ambas per ciò che sta accadendo in queste ore ad un noto personaggio italiano una famosa vip e scomparsa dal pomeriggio di ieri non si hanno più notizie una storia che abbiamo seguito anche a chi l'ha visto l'italia intera nella fattispecie la città di napoli è in ambas per ciò che sta accadendo in queste ore a laura la divina stella di youtube e di tiktok laura è una transgendere la sua fama sui social è legata a quella di rita de crescenzo che come sappiamo su tiktok ha oltre un milione di follower entrambe raccontano la loro vita e creano tanto intrattenimento e come detto vantano tantissimi follower dalla giornata di ieri il telefono di laura la divina è irraggiungibile rita de crescenzo racconta che laura stava attraversando un periodo di grande fragilità e nella serata di ieri abbiamo seguito anche l'appello di federica sciarelli da chi l'ha visto il primo anno di marco liguori vi terrà aggiornati sul caso di laura la divina sperando di fornire a breve buone notizie magari del suo ritrovamento amici youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video seguitemi anche sui canali youtube secondo gala di marco liguori e marco liguori psicologia e riscita personale